Musica Tra l'altro ragazzi è anche epica e molto bella Però prima di prenderla andiamo a fare il giro fortunato Tra l'altro ragazzi la proveremo in laser dash Tra l'altro ieri è uscito il video in cui la proviamo Andate da vedere ragazzi è veramente un video epico Dovete vederlo Vi aspetto questa sera in live alle 20 e 30 Buon sabato a tutti ragazzi vi voglio bene E' uscita una comune forse ce l'abbiamo Eh si ce l'abbiamo pure già Vabbè due gettoni il tumble che non buttiamo via Queste giro fortunati per ora non shoppo niente E ora ragazzi è arrivato il momento di prendere questa skin 3 2 1 vi ricordo di lasciare like iscrivervi A trovare la campanella A condividere il video a tutti i vostri amici Non mancare questa sera in live alle 20 e 30 Seguitemi su tiktok e su discord Terzo e quinto link in descrizione Quarto link in descrizione per entrare nel mio server di discord Avete dei vantaggi se entrate Primo link in descrizione per comprare la mia t-shirt Personalizzata di Xmax Vedremo chi sarà il terzo della storia a comprare La ragazza è fatta di codone Made in Italy Potete tenerla in live nei video ogni giorno O a casa o a scuola Mentre fate i pigiama parti ragazzi E' veramente perfetta Non si rompe ragazzi Quindi dura un po' Quindi il prezzo è tutto tutto E secondo link in descrizione Per fare una piccola donazione Saluto il top donator Kages Con una donazione di un totale di 20 euro E 33 centesimi Saluto anche il secondo top donator Kagabry Con una donazione di un totale di 18 euro E 33 centesimi Ora andiamo a prendere la nuova skin Gratis Waiting Ok E Metal Hatchling Epica Alliamo a equipaggiare Molto bella Credo che la userò per un po' E andiamo a giocare Perché voglio provare a vincerne una Però non voglio giocare Eh voglio giocare laser Non voglio fare partite normali Scusami Istanbul guys eh Eccoci qui Eccoci qui ragazzi Allora qui però bisogna concentrarsi un attimo Dobbiamo concentrarci Allora 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 Che bella questa skin Ragazzi proviamola Proviamo un attimo con Mentre torni Mamma mia ragazzi Troppo bella Troppo bella Troppo figo Troppo figa questa skin Veramente molto bella Mamma mia ragazzi Buon sabato Come vi faccio il video Ragazzi dovete condividerlo È un video veramente bestiale eh Veramente bestiale Veramente ragazzi bestiale No No Oh my god Oh my god Me son salvato Oh my god Me son salvato ragazzi Tra l'altro ragazzi Domain è già domenica Già tra un po' Sincero Però dai Non pensiamoci Me son salvato Non ci posso credere C'è godo C'è godo C'è godo C'è godo C'è godo Dixmax Concentrate Concentrate che la vinciamo Comunque ragazzi È pazzesco come sono proprio uno scartone A giocare Cioè È proprio pazzesco Non si può giocare Ok 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 Perfetto Concentriamoci Molto bene Perfetto No 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 vabbè Ragazzi non mi fa saltare Devo giocare meglio Concentrate Concentrate Dixmax Vi spero questa serie In level 20 e 30 Non mancate Mi raccomando Adesso ragazzi Dobbiamo giocarla bene Perché sanoramente Io non ci posso credere Ci dobbiamo veramente Concentrare Dai Vai Molto bene Perfetto Eh ragazzi Però qui Non so se riesco Non so se si riesce Devo dare qualche pugno Ok Quello lì Per to win Un po' l'abbiamo preso Però qui Non so se riesco a vincerla No ragazzi Trova by to win No No Troppi laser Non se può fare così E' troppo difficile Questo laser dash E' troppo impossible Non se può perdere così Però anche dai Dixmax Sei uno scarsun E va dai ragazzi Facciamo un'altra Però Cioè non è possibile Che gioca così male Veramente ragazzi È impossibile Vai 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 Questa la vinciamo Questa la vinciamo ragazzi Questa la vinciamo Questa la vinciamo Perché bisogna vincere Per forza Bisogna aver vincere Mamma mia ragazzi L'ho rischiato un po' Basta fare il pay to win Qui Ok Sentiamo qua Ragazzi Questa dobbiamo veramente Provare a concentrarci Perché Dobbiamo provare a vincere Non possiamo perderla Non possiamo perderla No Oh my god Mi sono salvato ragazzi Mamma mia Mamma mia Ragazzi Non so se avete notato Ma i video Sono diventato sempre Sempre meglio Quindi ragazzi Editate abbastanza bene Tagliate abbastanza bene Quindi ragazzi Spero che appreziate Allora qui bisogna concentrarsi Vabbè Molto bene No ragazzi Impossible Non Cioè è pazzesco Ragazzi mi fanno Tutti il pay to win A me Mi fanno tutti Il pay to win A me Tutti Il pay to win A me Tutti Questo caspita De pay to win A me È veramente impossibile È impossibile giocare ragazzi È veramente impossibile Non riesco Ok ragazzi Veramente però è impossibile Non se può giocare Ragazzi Non se può Basta fare il pay to win Please Allora Se mi fanno ancora il pay to win E mi arrabbio Se mi fanno ancora il pay to win Sclero Come se lo usavano Mettere l'accio Tra l'altro Ho riuscito A breve Cioè due giorni fa Un video Andatelo a vedere A me Ragazzi Tra l'altro Sclero un botto Editato benissimo Tra l'altro Quel video No No Questa è veramente Una presa in giro Io veramente Ragazzi Non riesco A portarmi a casa Neanche una win È È È È È È È pazzesco Non Non si può A portare a casa niente Non Non riesco a vincere Purtroppo Ragazzi È veramente pazzesco Però Non I don't know Ci proviamo Però è veramente impossibile Comunque ragazzi Ho appena visto Che il 17 settembre Il 2022 Siamo arrivati finalmente A 1000 iscritti Ragazzi Il 17 settembre Mamma mia Sarà una data Che mi ricorderò Per sempre Tra un anno Speriamo di essere Almeno 2000 Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Ora Però Perché non va bene Non ci sta Come sto giocando Non mi va bene Perché sto giocando male Quindi Adesso dobbiamo recuperare Perché stiamo giocando Veramente Veramente male Allora Qui stiamo giocando Un po' di laser Quindi Saltiamo Qua facciamo Dopo più sale Adesso ragazzi Questa qua Ve la vinco Mi concentro Questa qua Non ve la taglio Neanche un po' Questa qua Ve la vinco No Però Ma vedete ragazzi Che tutti vanno Adosso a me Tutti mi fanno il pay to win Io sono già conosciuto Che tutti mi vengono a fare il pay to win O è Pazzesco Speriamo che nessuno mi dà i punti E neanche i calci Speriamo in bene ragazzi Speriamo in bene Ultima partita Del video Poi ragazzi Ci salutiamo Ci becchiamo Dopo questa sera In live Era 20 e 30 Non mancate Buon sabato Tutti ancora Ieri ragazzi In live ci siamo divertiti Tra l'altro Ieri in live Giovedì sera Abbiamo fatto la live In concetto Vamo le amicizie Non so se c'eravate Ma ne faremo Un'altra A marzo Non vi preoccupate Magari ogni mese Ne facciamo una Secondo me È molto carina Questa cosa di Istanbul Casio Hanno aggiunto le amicizie Veramente molto carina Ancora una persona Ci siamo qualificati Per il final game Almeno una partita Proviamo a concentrarci Un pochino di più Perché Anche perché ragazzi Così Non vinceremo niente Se continuiamo a giocare così Dai final game Final game Non si può perdere Final game Non si può perdere Ma cos'è quella skin rossa ragazzi È una skin speciale Voglio dare un pugno Voglio dare un pugno A quella lì A quella con la skin speciale No 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 Ok Ok Non sono riuscito A dargli un pugno Però adesso Eh no Questo qui c'è proprio Un scioppone raga Oh Sono riuscito C'è quello Il mio obiettivo Era dargli un pugno A questo invece Ce l'ho fatta Il mio obiettivo Era dare un pugno A questo Ce l'ho fatta Allora qua Ci sono Due laser Molto bene Ora qua Saltiamo perfetti Voglio continuare a dare il pugno A questo qui Con la skin rossa Perfetto No È il karma Ma raga mi ha spito E vabbè raga è veramente impossibile Questa skin però Approvata Mi piace veramente tanto Lasciate like Veramente veramente bella Mi piace Ragazzi Vi saluto Vi ricordo di lasciare un like Non mancate questa sera in live Seguitemi alle 20 e 30 Seguitemi su di click su disco Da seguite il link in descrizione Guardo il link in descrizione Per entrare nel mio server di scuola Avete dei vantaggi se entrate Primo link in descrizione Per comprare i miei t-shirt Per le sue notizie di X Max Secondo link in descrizione Per fare una piccola donazione Vi aspetto questa sera in live Alle 20 e 30 Ciao a tutti Ciao Io vi voglio bene Ciao raga Ciao